Il mio nome è Alberto Colombo e sono l'amministratore delegato di Vallepicciola. Negli ultimi vent'anni, ma anche prima nel lavoro precedente, quindi ho sempre cercato di fare cose che mi piacciono e mi danno soddisfazioni. Io penso che se qualcuno si alza il mattino e ha voglia di andare a lavorare, i risultati poi arrivano. Siamo nati una ventina d'anni fa, quando la famiglia Bolfo ha ristrutturato un convento abbandonato a Pievasciata, 10 km a nord di Siena, e come tutte le storie belle nascono per caso. La mia vendemmia preferita, che ricordo sempre molto volentieri, è la 2003 naturalmente. È stata forse l'annata forse più difficile, però è stata la prima annata di vendemmia di Vallepicciola, quindi sicuramente è quella che ricordo volentieri come il primo figlio. Il nostro territorio è stupendo, come tutto il territorio del Chianti Classico. Rappresentiamo, noi siamo a Pievasciata, nella zona di Vagliagli, nella nuova Uga di Vagliagli, e rappresentiamo la tipicità del Chianti Classico, 50% di bosco, pochi vigneti, un po' di olivi. Abbiamo un'altezza di circa 450 metri, quindi abbiamo anche le notti molto fredde, le giornate molto calde, e vengono fuori i vini eccezionali, che invito tutti a venire a provare in cantina.